Come sarà a notare i settecoli fuori Roma? Naturalmente è strano perché non ci sarà quello che è l'entourage romano, però noi abbiamo già testato questa piscina l'anno scorso durante i giochi del Mediterraneo e i campionati italiani, quindi sappiamo che è una piscina scorrevole, pronta per poter fare dei risultati buoni. Per noi questo appuntamento è importante perché a due mesi dei campionati europei servirà per vedere la nostra condizione fisica e la federazione servirà per avere un po' le idee chiare sulla squadra che parteciperà a questi campionati. Ci sarà tantissimo entusiasmo come i giochi del Mediterraneo perché qui il pubblico abruzzese e pescarese ama il nuoto. Sì, naturalmente l'abbiamo visto già l'anno scorso, la piscina era sempre piena, la gente è molto calorosa, quindi già il fatto di gareggiare con il pubblico che fa il tifo per te e che apprezza quello che fai per noi è già motivo di orgoglio. Impressione tecnica, 18 le nazionali, inclusa l'Italia, che parteciperanno a questi campionati? Sì, diciamo che la presenza di atleti stranieri è vasta e sono atleti anche di alto livello, chi ha preso medaglie olimpiche, mondiali, campionati europei, quindi diciamo che per noi è motivo di stimolo in più perché bisognerà far bene. Un anno di distanza sarete all'Aquila, domani proverete le piscine e non solo. Sì, diciamo che motivo di orgoglio per noi è andare a trovare la popolazione dell'Aquila che ha subito questo dramma, naturalmente noi andremo a portare un sorriso, spero che sicuramente farà piacere e per noi sarà, secondo me, un dito in una piaga. Ad agosto i Budapest e queste competizioni, in questo fine settimana a Pescara, saranno più agonistiche o si cercherà anche il risultato? Sicuramente qui bisognerà cercare già il risultato, a due mesi di distanza possiamo riprendere un altro ciclo di lavoro e cercare di fare meglio fra due mesi ai campionati europei. L'appuntamento più importante sicuramente sarà Budapest, però noi già dobbiamo testarci.